L'azienda Martini la conosco oggi, ho 64 anni, avevo 19 anni che andavo in questa azienda e allora nella città di Bovolone, diciamo la cittadina di Bovolone, c'erano molte botteghe e molti molti artigiani, bravissimi, io non esagero se paragono la capacità di questi grandi bravi artigiani alla capacità degli artigiani della Firenze di Nascimento. Nella Firenze di Nascimento c'è la bottega di Andrò del Rocchio, di Donatello, basta che guardiamo, vedete qui i capiteli d'ordine composito, vedete le lesene eccetera, questa è opera d'arte, è opera d'arte che l'azienda Martini, Giorgio Martini con le figlie Arianna, Serena e Simona, il genero Roberto, lavorano veramente con la capacità di una volta. Grazie a tutti.